Ragazzi buongiorno, oggi sono a caccia di idee perché a forza di fare video ogni tanto poi non so più quale argomento andare a trattare. Allora chi meglio di voi può darmi una mano in questo? Bene, allora con questo video vi sto chiedendo di chiedermi un po' quello che vorreste sapere dell'allenamento, dell'alimentazione. Se posso darvi una mano in qualche modo, potete scrivere nei commenti a questo video la domanda che vorreste farmi. La domanda deve essere abbastanza restrittiva, nel senso non mettete un argomento troppo generalistico che mi è impossibile andare a rispondere o comunque dovrei passare le ore per andare a risponderlo. Mettetemi una domanda secca, una domanda su cui volete avere una informazione secca su come fare o no per andare a migliorare magari un aspetto che vi interessa dell'allenamento. Ecco, prima di fare questa domanda, visto che sul mio canale ci sono già mille video, provate a cercare la domanda o le parole chiave di questa domanda nel motore interno di ricerca dei miei video. In modo tale che magari vi salta già fuori quell'argomento che è già stato trattato così eviterò di fare già dei doppioni di video. Cercherò di rispondere alle domande che riterrò più interessanti, a quelle domande che penso che possono aiutare tutta la community del fitness a progredire e imparare nuove nozioni sull'allenamento o sull'alimentazione. Dai, aspetto tantissime vostre domande, vorrò essere breve a rispondere a queste domande, se no alcuni di voi mi dicono che sono troppo lungo, a volte vado lungo. Dai, nelle prossime settimane risponderò alla tua domanda. Ciao!